questo contenitore deve essere bloccato nel magazzino nel magazzino questo contenitore deve essere bloccato nel magazzino 047 a dentro il laboratorio p3 a rischio l'ingresso a 0,0 virgola perché sto dicendo 0 virgola vecchio io con queste virgole sono malato sai allora manda un messaggio al 48088 per ricevere questa bellissima sinfonia e 10 milioni di euro di debiti no si è aperta la roba di gmod vecchio mi ha bloccato la visuale tasti ieri tasto oggi aumento del tasso di riproduzione porca puttana vecchio la vuoi smettere ma se mi rompi i coglioni ogni frase come posso finire non fare versi rumori parole cose eccolo i registri di prova indicano che il team di ricerca ha tentato di redatto o tatto redatto un attico rosso perché un atto rosso un atto macchiato di sangue dal momento della rottura del contenimento iniziale i focolai di uno dei ceppi batterici ruba spero non si sentisse che stavo ridendo e spero che la mia pronuncia south australia sia stata di tuo gradimento tozio altrimenti ti attacchi al... e quello è agosto si vede il rapporto dell'incidente P047A è sempre agosto non è luglio un civile in un camioncino si crede abbia avuto un pompino si vede il rapporto